Due informative sono state presentate nell'ultima seduta del Cipe, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, il senatore Mario Turco. Innanzitutto si punta ad ampliare la dotazione finanziaria del CIS Taranto per favorire l'insediamento di nuove attività, che creino quindi nuove filiere produttive e nuova occupazione. In secondo luogo finanziare i giochi del Mediterraneo del 2026. Accrescere gli investimenti, secondo il senatore Turco, significa accelerare la riconversione economica dell'area ionica. Per il CIS, fa sapere Turco, una serie di progetti sono già pronti a passare alla fase realizzativa. Urge pertanto la certezza dei tempi di confinanziamento. Le proposte di investimento riguardano imprese private e prevedono un fabbisogno di risorse pubbliche pari a 100 milioni di euro a fronte di investimenti complessivi per un miliardo e mezzo garantiti prevalentemente da soggetti privati. Le assunzioni previste sono oltre 1.500. Per i giochi del Mediterraneo, che coinvolgeranno anche le vicine città di Brindisi e Lecce, si è preso atto della richiesta del ministro dello Sport Spadafora di un impegno di spesa da parte del governo per soddisfare il fabbisogno finanziario stimato in 100. milioni di euro.